Ben trovati cari amici a casa Rinaldi, altro appuntamento con le nostre interviste e oggi vi presento una giovanissima cantante, lei si chiama Matilda e già mi viene in mente Matilda sei mitica? Ciao, ciao Daniela, sì Matilda sei mitica. Tua mamma e i tuoi genitori hanno pensato, avranno visto sicuramente il film? In realtà per Leon, quello con la Natalie Portman, quello famoso, il sicario, sì. Ecco, ecco, adesso si spiega, si spiega perché la tua anima piuttosto rock cruenta, Matilda, Matilda classe 1997, non voglio, guarda, evito di fare il conto, evito di fare il conto perché non? È il 25, dai, numero tondo. Il primo quarto di secolo. Esatto. E come ti ho detto già prima, goditela bene questa vita perché è davvero fondamentale viverla pieno. La giovane cantante e chitarrista milanese, perché lei è pure chitarrista, debutta con il suo primo singolo Blea. Sì, sono un nomato greco. È disponibile già su tutte le piattaforme, ma mi spieghi perché Blea tanto, per essere chiari. Blea perché ve lo volevo un po' differenziare. Ecco. Proprio perché è un po' un vomitare tutto quello che un po' mi sta stretto della società, il Blea è proprio... Quante sono le cose che ti stanno stretti in questa società? Molte, moltissime purtroppo. A partire da... E come? A partire da... A partire da come l'estetica dei social sta distruggendo proprio tutta l'identità di noi giovani, soprattutto i più piccoli che vedono entrano in questo mondo, dove vedono tutto perfetto, tutto bellissimo. E giustamente poi... È tutto un filtro, passa tutto attraverso un filtro. In effetti, tante volte mi dicono, ma perché non usi filtri? Perché io sono così. La realtà è questa, quindi siamo così. Matilda, dunque, dicevo classe 1997, cresciuta con la passione per il cinema e la musica degli anni 70. Ma come ti viene in mente? Figli dei fiori, io li ho sempre detestati. Perché? Tu stai bene a San Francisco, lo sai? Sì, ci sono state, in effetti, ha delle bellissime vibes. Sì, sì, sì. Ecco. Perché? Perché, allora, mio padre mi ha proprio cresciuta a pane rock'n'roll, da quando ero piccolina. Ho sempre ascoltato i grandi e anche nel cinema mi sono appassionata da tantissime a Fellini, Antugnoni. Proprio io, se potessi, tornerei proprio indietro, anche se non ci sono mai stata. Un bel viaggiatino negli anni 70 e sarei felice, proprio. Magari ci avrai, ci avrai anche vissuto, poi sei morta prematuramente, sei ritornata. Chi lo sa? Potrebbe. Che cos'è quella R che porti qua? No, questa qui è una collana, una copia della collana di Sid Vicious, dei Sex Pistols. Ecco, proprio l'anima rock ce l'hai. Ce l'ho da quando sono piccola, sì. A dieci anni hai proprio imbracciato la tua prima chitarra, ma quel lato di Matilda praticamente è sempre rimasta la passione della tua cameretta. La stanza mi sa dove ti trovi adesso, in questo momento. Esattamente, esattamente. Che bello. Sì, sì, che mio padre mi ha insegnato la chitarra, è stato lui proprio a darmi la prima chitarra a insegnarmi. Però sono sempre stata a fare le mie cover, le mie canzoncine. E poi mi è venuta questa cosa che ho detto, ma proviamo a scriverlo un pezzo con quello che proprio vorrei dire. E da lì poi è partito tutto. Questo quindi bleh è il tuo bleh, adesso detto bleh. È il tuo primo singolo, te lo sei scritta da sola, tutto tuo. Allora, questo in particolare l'ho fatto assieme a un amico. Ne avevo, ne ho altri nel cassetto che sono pronti lì. Poi per caso ho beccato in un negozio di musica un mio amico che non sentivo da anni. L'ho visto come un segno del destino. Ho detto, beh, vediamoci, proviamo. E alla fine è uscito questo pezzo, soprattutto in italiano. E quindi ho detto, come primo singolo siamo in Italia, facciamo una bella cosa. È uscita una cosa impacchettata bene, con un mix di generi. E ho detto, come biglietto da visita, mi sembrava molto interessante. Però ne ho tanti altri dove li ho fatti da sola, diciamo. Ecco, la canzone è su tutte le piattaforme. Il video per quando sarà pronto? Il video è già pronto? È su YouTube? È perché è uscito... Non è uscito, non sono riuscito a trovarlo il video. Perché mi ho trovato soltanto quest'immagine qua che mi è rimasta bloccata. Cioè, passa la canzone ma non mi passa il video. Ah, strano, perché se scrivati da Blè videoclip dovrebbe uscire fuori. Strano. Grazie per questa informazione. È uscito due giorni dopo. Ah, bene. Due giorni dopo il singolo. Bene, allora, una volta completata la tua formazione come regista, ecco, sei una ragazza piena di sorprese. Grazie. Allora, volendo cercare qualcosa di più per esprimere il tuo mondo interiore, la musica ti è venuta in soccorso. Ma mi spieghi perché come regista? Hai detto, hai parlato prima di Fellini. Che cosa ti ha colpito studiare regia? Mi ha colpito, proprio seguendo questi registi, che erano i mostri proprio sacri, mi ha colpito le storie che raccontavano, quello che riuscivano a dire e far cambiare anche magari idea su certi aspetti della vita. Poi mi è sempre piaciuto il neorealismo proprio bello crudo di quello che in realtà è la vita, diciamo. E quindi ho sempre detto vorrei fare cinema proprio per cercare di mandare dei messaggi che possano aiutare, che possano confortare. E la stessa cosa alla fine l'ho unita alla musica, perché anche nella musica vorrei dare dei messaggi di un certo tipo. Lo faresti diventare un film, questo Blea? Ah, beh, sì, mi piacerebbe. Ma tanti, molto spesso, quasi quando penso al pezzo che scrivo, mi viene proprio in mente anche il videoclip che vorrei realizzare, che c'entri proprio tanto, che sia un'aggiunta a quello che è il messaggio. E che messaggio vuoi dare tu con questa canzone? Con questa canzone vorrei cercare di spiegare, non neanche spiegare, proprio farti mettere sul piatto tutti quegli atteggiamenti, quelle mode, quei modi di vivere, diciamo, che a mia sensibilità ci porteranno, non sono nulla di buono, non ci aggiungono nulla di buono alla nostra vita. E quindi semplicemente vorrei farli vedere. Cioè la cosa era, io ve li metto davanti, e poi chi vuole li vede, non so come dire, dice, ok, sono d'accordo, e chi non vuole, non sono d'accordo, io continuo nella mia strada. Però era semplicemente far luce, ecco, far luce su certi tipi di argomenti. Giusto. Una cosa, su questa, abbiamo passato due anni assurdi, no? Tutti quanti, di una vita, noi di una certa età ci siamo ritrovati ancora più soli di quello che eravamo. Voi giovani vi sono state trappate le ali perché non avete potuto vivere quella giovinezza, quell'età che poi non torna indietro per nessuno, per tutti quanti. C'è un qualcosa che vorresti dire a tutti quelli che sono diventati più cattivi, perché poi ce ne sono tanti, eh? Certo. Che questi due anni hanno tirato fuori proprio le loro cattiverie, che sono diventati dei leoni da tastiera. Perché usiamo tutti quanti questi filtri per farci vedere più belli, più strafighi, che poi alla fine siamo come mamma ci ha fatto tutti quanti. E che però siamo diventati bravi come leoni da tastiera per criticare, giudicare. Ecco, tu vuoi lanciare un messaggio per far capire quello che è la realtà. Ma che cosa vuoi dire a queste persone? Tra l'altro, piccolissima parentesi, nel video c'è anche un personaggio che è l'hater, che ho proprio voluto raffigurare col volto coperto, perché di solito non sono sempre sconosciuti, al PC che scrive, arrabbiatissimo, tutti i suoi commenti. C'è anche questo archetipo. Ma tu pensa, e io non ho visto il video, guarda, però ho ascoltato la canzone. Avendo ascoltato la canzone, vedi, mi ha... E quindi è già un messaggio, lei l'ha già messo questo messaggio. Esatto, c'è già. Però sì, questi personaggi qua, più che diregli qualcosa, perché comunque uno deve passare poi per la propria esperienza e capire da solo determinate cose, di sicuro il fatto di avere una passione per qualcosa aiuta tanto. Il fatto di credere in qualcosa ti rende più umano, ti rende più aperto e con meno pregiudizi. Poi purtroppo i pregiudizi ci saranno sempre. Poi sta a noi che li subiamo dedicargli il tempo che gli vogliamo dedicare, l'importanza che gli vogliamo dedicare. Ecco, evitiamo di dare importanza alle cose inutili. Esattamente. Quindi messaggio molto positivo quello che tu stai passando con questo singolo, con questo videoclip, perché sicuramente è tua regia, perché visto che sei regista, è grande protagonista. Un sogno nel cassetto, hai solo 25 anni, ne avrai tantissimi, un cassetto che... Tanti. Che viene fuori, ecco. Quello più... Che ti sta proprio qui, 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 dove c'è la R. Beh, allora, sicuramente riuscire veramente a dare dei messaggi in musica e un bello sfizio è fare un film. Ecco. In futuro, quando sarò un po' più matura... Lo stai già scrivendo? Ho qualche scritto, li sparso qua e là, quello sì, però sarebbe un bel... un bel capitolo anche fare un film, sì. Matilda Valconi, intanto qua vedo anche il tuo cognome, classe 1997, una 25 anni, giovanissima, chiese tutte le piattaforme digitali, anche su YouTube, con... Bleh. Viene meglio a te. Hai il sorriso che sta bene per questo titolo così particolare. ma se non avessi dato questo titolo avrebbe avuto un altro titolo questa canzone o no? Ma avrei pensato basta. Ecco. Però basta. Per noi era più facile. Era più facile, però fa ridere anche sentire qualcuno che dice, beh, è un po' più spiritoso, diciamo. sì, però voi vi dovete mettere anche i nostri danni, come tanti cantanti quando ti vanno a mettere quei, 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 quelle parole, quegli aggettivi che sono poco pronunciabili, no? Ecco, allora, o siamo così spiritosi, sfacciati, però dall'altra parte c'è sempre un editor che dice ma tu guarda che cosa vai a dire così. Voi siete dei provocatori nati, complimenti Matilda, perché essere provocatori significa anche farsi ricordare e non è facile. Verissimo, verissimo. Non è facile assolutamente. Un piatto che preferisci quando scrivi, mangi oppure ti dimentichi di mangiare? Quando scrivo mi dimentico di mangiare, quello sì. Il piatto preferito è all'italiana proprio spaghetti al pomodoro. Ecco, classico. Dovremmo andare tutti i giorni. Una rocchettara pensavo un banana bread perché gli americani vanno avanti con queste cose che mangiano da colazione, pranzo, cena, si portano dietro. Invece mi è stupita per essere proprio italiana, italiana verace. Bene, ragazzi, allora, Matilda, ricordate Matilda con, beh, come lo dice lei, benissimo. Questo singolo davvero rocchettaro italiano di una giovane artista, trovate il singolo su tutte le piattaformi digitali, quindi diamo valore alla nostra musica italiana, i nostri giovani perché saranno proprio quelli che ricorderemo nel prossimo futuro, spero di ricordarti. sei simpaticissima, ti ho fatto davvero tanto piacere che ho incontrato. Grazie mille, Daniela, grazie per l'opportunità. Grazie a te, ciao, ciao. E salutiamo la nostra Matilda, alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.